Questa è una rivisitazione del poema omerico e la trama ovviamente è rimasta intatta ma la particolarità di questo testo è che io ho voluto proprio scrivere delle canzoni, dei testi particolari parodiati su canzoni famose così da farlo diventare un po' una parodia, una commedia musicale, un musical e quant'altro arricchendolo anche di trovate, anche paradossi, il tutto con la finalità di confezionare uno spettacolo piacevole, gradevole e che possa incontrare il piacere, il favore del pubblico, che si aspetta questo da noi perché questa ormai è la sesta edizione per cui io credo noi abbiamo fatto un salto di qualità impegnandoci in dei testi sempre più difficili, sempre tenendo conto che questi sono tutti medici.